L'Expo 2015 sarà uno straordinario evento universale che darà visibilità alla tradizione, alla creatività e all'innovazione nel delicato settore dell'alimentazione, che con ogni probabilità sarà il tema dominante di ogni pensiero geopolitico del XXI secolo. La città di Milano, che lo ospita, intende coinvolgere altre realtà che proprio sull'alimentazione hanno tantissimo da dire, a partire da Napoli, dove sabato prossimo, 17 novembre, alla Rotonda Diaz, sul lungomare liberato, i cittadini potranno apprezzare gratuitamente le specialità tipiche di 9 diverse cucine, 4 della tradizionale cucina mediterranea e 5 da differenti aree del mondo, come Cina, Costa d'Avorio, Pakistan, Senegal, Marocco ed Ucraina. Tutto il mondo verrà in Italia nel 2015. Saranno sei mesi dedicati da un lato ad affrontare i grandi problemi del mondo legati alla nutrizione, ma anche le grandi gioie, anche la straordinaria possibilità di incontro di culture che trova nella tavola, si potrebbe dire nel convivio, l'occasione più formidabile dello scambio di civiltà. La tavola dunque come incontro tra territorio ed etnie ed immagine positiva di dialogo, come sottolineato anche dall'assessore alle politiche sociali Sergio D'Angelo. Assicurata la presenza del sindaco di Milano e per l'occasione il cartellone in città si riempirà con spettacoli, mostre e rappresentazioni teatrali a tema fino al 20 novembre. La cultura culinaria mediterranea nasce qui ed è importante che riprenda quella cultura per il tema del nutrire il pianeta. Siamo 7 miliardi, c'è cibo per tutti ma c'è bisogno di tracciabilità e di qualità. Noi crediamo che Napoli sarà centrale anche a Milano perché la capacità dei nostri produttori, la capacità, la sapienza dei nostri artigiani del cibo sarà fondamentale per dare al mondo una lezione di come è possibile tenere in equilibrio anche come dire il sapore con però la qualità.